Si è svolta questa mattina nella Sala Vitale della sede CISLA Bruzzo Molise di Campobasso una conferenza stampa presieduta dalle segreterie sindacali della Regione per annunciare e far conoscere le iniziative immediate a sostegno del documento approvato dagli esecutivi unitari nazionali e il cosiddetto moderno sistema di relazioni industriali e di quelli a sostegno del lavoro e delle vertenze del Molise. programmato a tal proposito per il prossimo giovedì 18 febbraio un incontro confederale per fare in modo che si avvii il nuovo modello di relazione industriale per salvaguardare il salario dei lavoratori spesso minato dalla tassazione locale. All'ordine del giorno non solo il lavoro ma anche le criticità dei trasporti, la sanità, la parametrazione dell'area di crisi e le numerose vertenze indirizzate alla Regione tuttora sospese. La contrattazione è l'essenza del nostro lavoro ed è chiaro che la contrattazione deve essere svolta nei luoghi di lavoro ma anche quella territoriale. Abbiamo parallelamente avviato un percorso e siglato un'intesa con l'Anci perché unitamente alla contrattazione, quella tradizionale, è necessario oggi fare contrattazione sociale che ponga al centro il tema anche della lotta alla povertà e qui noi siamo abbastanza in ritardo quindi è importante unire le forze. Poi noi stiamo da tempo come voi anche rappresentate sostenendo quella che è un'avvertenza sul lavoro. Sono stati individuati dei percorsi, c'è l'area di crisi però noi rileviamo dei rallentamenti. Tant'è che abbiamo fatto una richiesta di incontro urgente e il Governatore ce l'ha accordata per domani alle 12. dobbiamo accelerare anche sul masterplan e dobbiamo fare in modo che la spesa che può provenire dai fondi europei deve essere accelerata. Ci siamo sostituiti a vuoti di politiche e di idee della nostra regione il commento del segretario della CISL Giovanni Notaro a rincarare la dose poi al sindacalista della Guilla Pasquale Guarracino che alla luce dell'incontro con il Governatore Frattura previsto per domani chiede a gran voce serietà e determinazione nell'affrontare la serie di vertenze sospese. Sostanzialmente il grosso problema è che i contratti collettivi nazionali sicuramente sono tanti e andrebbero spoltiti ma quello che è la nostra intenzione è avere i contratti integrativi di secondo livello per creare davvero reddito e stabilità al lavoratore. Poi però in quello che oggi diremo e soprattutto nell'incontro che ci sarà dopo domani con gli esecutivi regionali di CGL e CISL Will non può non farsi il punto della situazione sull'emergenza lavoro che ormai sta distruggendo, sta massacrando il Molise per colpa di una gestione poco attenta della politica molisana tutta che non si interessa ai problemi dei lavoratori nonostante avesse avuto la possibilità di trovare soluzioni a qualsiasi cosa in questo tempo ma volutamente non lo ha fatto tant'è vero che sono mesi che ormai siamo in assenza dell'assessore al lavoro e sembra che questa cosa non interessa a nessuno. Questo è proprio il termometro che ci fa capire che a questo governo di lavoro non interessa niente ma probabilmente pensano ad altre cose, magari anche personali. Non passa inosservato l'intervento di Franco Spina della Filcamps CGL che punta l'attenzione su quelli che sarebbero i tre capisaldi del modello di relazione industriale ossia la contrattazione, la solida partecipazione e la determinazione di regole certe facendo riferimento alla situazione dell'area di crisi industriale complessa. Nessun intervento, domani pare che ci sia questo incontro speriamo che vengono fuori degli elementi nuovi perché si parla tanto di allargamento, si parla tanto di tanti altri aspetti non conosciamo però nel dettaglio perché fino a questo momento al di là delle enunciazioni di ottobre non ci sono state più possibilità di discussioni reali e concrete. Sull'area di crisi ci attendiamo molto, ci abbiamo scommesso tutti a partire dalle organizzazioni sindacali. Adesso è finito il tempo dell'attesa, ci deve essere qualcosa di costruttivo i nuovi mesi sono ormai al termine e dentro maggio dovremo definire tutto rischiamo altrimenti di perdere uno strumento importantissimo.